Ciao, sono Stefano per Camera Wargaming. Se non mi conosci, sono un pittorio e un crafter. Non ho un grande canale, ma ho cercato di crescere ogni giorno. Io davvero apprezzato il video tutorial di DARK AGES WORKSHOP e il video, come se il modello è riuscito a tornare. E lo stesso per i miniaturi Zadz Kadun. Questo video è la risposta della chiamata per il contesto di Grimdark. Nella prima parte, vi mostrerò la creazione di questa malattia, con punti di grigli e più pittori. La seconda parte è il tutorial di pittorio. Facciatevi un po' di più confortabile. I use an old 3D print miniatures. After I start to remove the head, arms. I use a rotary tool to create a shape for the shoulders and for the head. I have a bunch of beads and I use them in random parts as arms to create this nightmare. I use an old 3D print miniatures. I use an old 3D print miniatures. With ugly stuff model putti I sculpted a big belly and other parts. I use an old 3D print miniatures. I use an old 3D print miniatures. I use an old 3D print miniatures. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. This is the model. This is the model. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. on camera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.